Donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Salve Maria, madre di Dio, prego del nostro pecatore Adesso nel nome della nostra morte, amén Grazie 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 Sì, si face con te, guarda. 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 Sì, 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 guarda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.